E ci sono stati momenti di forte emozioni dopo il gesto, sì, di Bianca Guacero che ha fatto sulla piattaforma Instagram, sul suo profilo ovviamente, e tra l'altro ha aspettato per farlo tutto, insomma, ha aspettato tutta l'estate, ha aspettato il momento giusto, ovvero questo, quello di settembre, per compiere questo gesto che indubbiamente resterà nella memoria di tutti. La nostalgia è già travolgente e i suoi fan sono rimasti davvero commossi da questa decisione assunta dalla conduttrice. Tra l'altro ha scelto non a caso proprio la data esatta del 12 settembre che in pratica avrebbe rappresentato un giorno davvero importante per lei. Giorni fa Bianca, prima dunque che caricasse questo video su Instagram, aveva detto quando mi rivedrete in tv? Presto, ve lo prometto. La conduttrice quindi ha parlato così sul suo ritorno sul piccolo schermo. La sua trasmissione, detto fatto in onda su Rai 2, non sarà trasmessa a settembre, ma stando alle sue parole Bianca tornerà comunque in tv, magari non con quel programma, però lei tornerà. Anche se non si sa ancora dove, non si sa ancora quando, ma la presentatrice di V non si è sbilanciata più di tanto e quindi non ha detto nulla. Nella giornata del 12 avrebbe dovuto avere inizio il programma di Bianca, cioè detto fatto, che però è stato eliminato dal palinsesto della Rai, quindi per l'occasione lei ha voluto pubblicare un video su Instagram per soffermarsi sulla trasmissione. Ha postato un filmato nel quale lei era intenta a fare un balletto con Jonathan Kashanian nel corso del format Rai. Tante sono state le reazioni da parte degli utenti sotto il suo post, quindi un sacco di commenti, un sacco di interazioni, come sottolineato dal sito Ultime Notizie Flash in un articolo. Quindi abbiamo anche la testimonianza. Questi sono stati alcuni dei commenti ricevuti da Bianca, tipo Mancherete tanto, grazie per gli anni passati insieme, per favore create qualcosa di nuovo ma insieme fatelo. Quando si renderanno conto dello sbaglio che hanno fatto sarà troppo tardi. O ancora, finché tu non tornerai non ci saranno più dei bei pomeriggi, l'allegria, la bellezza, i sorrisi e la tua bellissima voce ci mancano tanto. Ti aspettiamo con tanto, tanto amore. Questi come tanti altri, eh? E allora Bianca come di Dascalia ha semplicemente riportato oggi vi saluto così. E ha attaccato non soltanto Jonathan Kashanian ma anche Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi che in pratica lavorano insieme a lei, indovinate dove, ha detto fatto. Quindi non è facile per il pubblico abituarsi all'assenza della conduttrice dal piccolo schermo Rai, anche se molto presto, come detto a inizio video, potrebbe ritornare alla grande come protagonista con altro però, non con detto fatto. Bianca Guacero, ebbene sì, questa è una bella novità per lei, staremo ad aspettare. Adesso che ricominceranno i programmi, vedremo cosa inizierà. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, questo è tutto per questa notizia. Ciao!